eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre vi invito prima di iniziare il tg code a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi perché in questi giorni arriverà di tutto e di più dalle notizie in anteprima di ame v3 sulla nuova mappa di warzone le novità future delle varie season quindi mi raccomando ragazzi poi salvatevi in descrizione il primo link che la mia collaborazione con eba che vi permetterà di spermiare tantissimi soldi sull'acquisto videogiochi nuovi del passato gift card abbonamenti chi più ne ha chi più ne metta stai vedendo tipo ad esempio troverete già a prezzi scontati assassin's creed mirage e poi come sempre vi aspetto oggi alle 14 live su twitch se ancora di fatto iscrivetevi immediatamente perché domani ragazzi porterò il code next in una maratona lunghissima con tutte le novità e poi venerdì in anteprima italiana la beta di mv3 su playstation quindi ragazzi mi raccomando se ancora di fatto iscrivetevi sul mio canale di twitch e se non avete un account fatevelo immediatamente partiamo con le notizie di oggi perché vi faccio vedere nuove immagini estrapolate dal trailer delle armi rilasciate in questi giorni che trovate sul mio canale youtube relativo ad alcune armi in anteprima vi faccio vedere la uzi come state già vedendo avranno altri nomi che ho detto non c'è stato il rinnovo dei diritti dei nomi delle armi quindi anche qui troveremo nomi letteralmente inventati quindi questa è la uzi che troveremo su mv3 questa invece è la renetti quindi la pistola questa è l'unica appunto che avrà questa nomenclatura e qui potete riconoscere il pkm che prenderà il nome di pulemiot 762 allora vi stavo dicendo ragazzi appunto domani c'è il code next che potrete seguire sul mio canale di twitch a partire dalle ore 17 bene cosa vedremo vi rinfresco un attimo la memoria vedremo il multiplayer di mv3 con gameplay live gameplay e sledgehammer games che svelerà i dettagli e le funzioni le caratteristiche del multiplayer poi troveremo di mv3 anche la modità zombie se non ci saranno live gameplay non ci saranno gameplay ma ci sarà un trailer gameplay e inoltre trailer che svelerà le caratteristiche di questa nuova funzione di questa nuova modalità presente all'interno di mv3 poi sarà presente words on mobile con gameplay live gameplay e ovviamente anche qui vengono svelate le caratteristiche e le funzioni di words on mobile presumibilmente sarà annunciata anche la data di rilascio e poi ci daranno le novità di words on con gameplay live gameplay e viene mostrata la nuova mappa e appunto le novità future di words on con la raven software quindi domani ragazzi non dovete per forza prendere impegni ore 17 sul mio canale di twitch tutte le informazioni e l'evento in diretta ma andiamo avanti con le notizie perché ieri la sledgehammer games ha azzardato praticamente una bomba o meglio si è azzardata a dire che il movement di mv3 sarà uno dei migliori se non i migliori di sempre per quanto riguarda il brand di call of duty infatti ha dichiarato che modern warfare 3 ha il movement migliore di quelli che call of duty ha attualmente da offrire quindi una dichiarazione molto importante una dichiarazione di presa di coscienza e di responsabilità molto importante staremo a vedere domani al code next e poi ovviamente lo proveremo direttamente nella beta di mv3 il 6 di ottobre vi terrò aggiornati ma come sapete il 5 di ottobre potremo vedere questo code next vi anticipo già qualcosa che vedremo vi ricordo che di mv3 sono state annunciate 16 mappe di mv2 del 2009 e alcune saranno mostrate al code next e adesso vi dirò anche quelle che saranno presenti nella beta poi al lancio del gioco dovremo quattro mappe guerre terrestri ritornerà modità guerra ci sarà la votazione della mappa ci sarà la minimappa classica la salute sarà 150 tornerà lo slide cancel con l'annullamento della ricarica ci sarà lo scavalcamento più veloce e ci sarà il sistema dell'equipaggiamento tramite perk quindi tramite vestiario che appunto ci daranno delle funzionalità dei perk sul gioco ma di questo ne abbiamo già parlato per la questione caschi per la questione stivali giubbotti e via dicendo ecco qui in anteprima ragazzi cosa troveremo a livello di mappe nella beta di mv3 troveremo favela troveremo skydrow troveremo estate e troveremo rust mentre nel weekend 2 sarà introdotta a irise quindi saranno cinque mappe giocabili delle 16 che troveremo al lancio fissato come vi ho detto il 10 di novembre vi lascio in alto a destra ragazzi il trailer ieri sera dedicato al multiplayer di mv3 grazie veramente per il supporto al video grazie a tutti coloro che l'hanno visto se ancora avete visto recuperatelo lasciate un bel mi piace e un commento voglio sapere cosa pensate del primo trailer gameplay di mv3 vi faccio qualche piccola analisi che sono riuscita ad estrapolare da questo trailer come potete vedere viene mostrata questa arma molti mi hanno detto amante torna la mimetica diamante al momento non si sa quali saranno le mimetiche vi farò sapere maggiori informazioni nei prossimi giorni ma questa non è una mimetica diamante è la mimetica della volt edition una delle due armi che saranno presenti all'interno dell'edizione di cassaforte quindi non ha nulla a che vedere con la mimetica diamante vi faccio vedere invece questo piccola clip che invece ci fa vedere in effetti il ritorno dello slide cancel e la velocità dell'ads vi ricordo che poi ci saranno determinati perk che andranno influire ancora di più sul movement di mv3 mentre questa che state vedendo è sia la prima immagine a quanto pare della nuova modalità guerra e a quanto pare dovrebbe essere anche una nuova immagine della nuova mappa di warzone di cui adesso vi darò ancora più maggiori informazioni nel proseguo del video vi voglio far vedere anche nuove immagini in anteprima di irise terminal guardate quanto è bella sub base e underpass questo è sub base e underpass di sub base sembra come se avessero levato un po più di neve rispetto alla versione originaria vi darò maggiori informazioni non appena la vedremo nelle prossime ore sembra come se l'avessero leggermente diciamo ristrutturata mentre questa immagine che è stata mostrata all'interno sempre del trailer multiplayer che vi invito a vedere in alto a destra è la prima immagine della nuova modalità cut row si tratterà di una modalità di eliminazione a turni quindi un 3 contro 3 contro 3 su modern warfare 3 infatti come potete vedere sulla mappa vengono indicati tre team quindi non penso che ci sia ombra di dubbio su questa cosa ma parliamo invece della nuova mappa di warzone perché vi faccio vedere tre nuove immagini in anteprima e adesso vi farò vedere anche la clip specifica che arriva sempre dal trailer di ieri che vi lascio come ho detto in alto a destra che fa vedere la nuova mappa di warzone questa è un fermo immagine direttamente dal trailer ecco un altro fermo immagine sempre dal trailer come potete vedere richiama tantissimo la struttura e la conformazione di verdansk quindi l'ix che avevo riportato nell'ultimo periodo erano reali ed erano stati indovinati ecco un'altra immagine per essere ancora più precisi vi faccio vedere proprio l'estratto del video che si vede proprio dal trailer multiplayer dove possiamo vedere appunto una maggiore panoramica di questa nuova mappa di warzone che veramente ha le stesse sensazioni le stesse vibes che ci dava appunto verdansk mi ricordo la stessa palette colori mi sembra la stessa struttura degli edifici dei palazzi anche se abbiamo già un palazzo completamente nuovo ve lo faccio vedere questa sorta di resort questa sorta di ospedale gigantesco è veramente enorme questa struttura e appunto sarà all'interno della nuova mappa di warzone cosa molto curiosa come potete vedere ci sono delle scritte in alto sono andato a utilizzare google traduttore direttamente sull'immagine e mi indica che è una scritta in russo quindi la notizia che aveva riportato il dataminer alex nelle ultime settimane che la mappa di la salma sarà stata accantonata per utilizzare poi quella dell'urzikistan sembrerebbe sempre più piede però saremo più precisi domani con il code next dove sarà proprio svelato il nome della mappa e dove daranno maggiori informazioni cosa molto curiosa in un fermo immagine che vi faccio vedere sulla destra sempre dell'altra immagine che ho fatto vedere precedentemente si vede in lontananza il porto le gru e le strutture sono le stesse quindi l'immagine ufficiale che è stata riportata nei giorni passati dal profilo ufficiale di call of duty che è stata la prima immagine ufficiale della nuova mappa di warzone viene ritrovata proprio dentro alle immagini di ieri l'immagine nello specifico è questa qui dove sulla destra come potete vedere in questo zoom in questo collage che ho fatto ci sono proprio le gru del porto quindi non c'è ombra di dubbio ragazzi che queste nuove immagini sono state rilasciate ieri sono legate proprio alla nuova mappa di warzone ha confermato anche ieri il noto portale charlintel questo ragazzi era tutto quello che ve lo dire il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty spaccate con un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi e soprattutto fatevi subito un accanto se non lo avete iscrivetevi su twitch perché da domani arriveranno due live della madonna grazie